Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa influencer Giulia Delellis è finita al centro delle critiche online per un suo commento che ha scatenato una reazione negativa da parte dei suoi follower. La Delellis, con oltre 5 milioni di seguaci sui social media, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui esprimeva il suo disappunto per il fatto di iniziare a lavorare con la luce del sole e finire quando era già buio. Le sue parole esatte sono state È veramente assurdo entrare in ufficio con la luce del sole e uscire che è notte. Mi sono appena resa conto di non essere uscita da tutto il giorno fuori. Neanche ho messo fuori la testa. Ho chiuso la porta che era giorno, la riapro ed è notte. Il video è diventato virale e ha scatenato una serie di reazioni negative tra i suoi follower, in particolare per il fatto che la Delellis indossasse un abito da sera per andare a lavorare, un comportamento ritenuto inappropriato da molti. Su Twitter, gli utenti hanno evidenziato come la routine descritta dalla influencer sia simile a quella di molte persone che faticano a trovare del tempo per se stesse durante la settimana. La critica si è concentrata anche sul suo stile di abbigliamento per il lavoro, con diversi utenti che hanno espresso disapprovazione per la sua scelta di vestiti. La Delellis si è trovata così al centro di una polemica che ha messo in discussione non solo il suo commento sul lavoro, ma anche sul suo lavoro.